Chiudi il morto E quando te la senti? Stop. In questo punto qua? Sì. Sei sicura? Sì. Una, due, tre o quattro? Quattro. Quattro? Perfetto. Allora, io adesso prendo un po' di carte e inizio a distribuirle così. Tu quando vuoi, quando te la senti, mi dici stop. Stop. In questo punto qua? Sì. Una in più o va bene qua? No, va bene. Sicura? Sì. Conta quante carte sono ad alta voce? Uno, due, tre, quattro, cinque, so, esatte, otto, nove, dieci. Dieci carte, giusto? Sì. Tu vuoi dirmi stop in un punto qualunque. La cosa bella è che se qui abbiamo dieci carte, esattamente queste quattro carte le quali mi ha detto stop sono esattamente quattro, dieci. Quindi adesso abbiamo la prima coincidenza. Adesso arriva la seconda parte che è molto particolare. Adesso mi dici stop rapidamente un'altra volta. Stop. In questo punto qua? Sì. Super rapida così? Sì. Ok. Quante carte abbiamo adesso quindi? Uno, due, tre, quattro, cinque, sette. Sette? Quindi quelle che prima erano dieci carte adesso sono sette e se prima qui avevamo i dieci adesso abbiamo esattamente tutti e quanti i sette. Wow. Quindi abbiamo avuto due grandi coincidenze. Adesso sai la leggenda dei sette Chiara? No. Non è una leggenda leggendosa, è una leggenda vera e propria. I sette infatti sono le uniche quattro carte del mazzo che se ne prendi le giri e le scuoti si trasformano in assi. Adesso andiamo a dare una piccola mescolata così andiamo ancora a mescolare e ti chiedo di scegliere una carta, quella che vuoi, quella che preferisci. A caso? Sì sì a caso. Ma così in diretta? Sì sì in diretta. Vai. Questa? Questa. Ok perfetto. La guardi, la ricordi. Quando vuoi, quando hai fatto me la metti qui. Vai. E la andiamo a lasciare più o meno al centro del mazzo così e andiamo anche a dare una piccola mescolata tenendo gli assi in cima. Adesso ti faccio una domanda. Ti chiedo di dirmi un asso, quello che vuoi. Quali quadrifiero picche? Picche. Picche. L'asso di picche. Andiamo a prendere l'asso di picche. Eccolo qua. Adesso andremo a far girare l'asso di picche. Faccia in su, faccia in giù e faccia in su tre volte. Devi dirmi se lo vedi. Ok? Mentre che si gira ovviamente. L'asso parte faccia in su come gli altri. Si è già girato. L'hai visto? No. Invece si è già girato. Te lo faccio rivedere. Parte di nuovo faccia in giù. Così. Schiocco. L'hai visto? No. Invece si è già girato. Succede tutte le volte così. Lo rifacciamo ancora una volta. Più lento e più visuale. L'ultima volta. Parte faccia in su. Così al centro. L'hai visto? No. E stavolta non si è girato. Te lo giuro. No scherzo. Guarda. Adesso lo faccio veramente. L'asso di picche si gira. Ma stavolta non si è girato e basta. Infatti si è anche trasformato. Nella tua canna. In tre di cuori. Bene ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì lasciate il pollice in su. Se non siete iscriviti iscrivetevi. E fate buona Pasqua. Io vi voglio bene e vado a farmi una sauna. Ciao ragazzi.